Ma noi facciamo una squadra, siamo una squadra, quindi siamo entrati tutti assieme. Provi a spiegare sinteticamente al pubblico qual è il senso artistico del vostro trio. Beh, l'incontro tra più culture, diciamo che siamo tre musicisti che hanno un'estrazione musicale diversa e si incontrano su un palcoscenico per fare bella musica insieme. Non ci dimentichiamo che la diversità è ricchezza, soprattutto in musica. Lei è un giovane simbolo del fatto che un siciliano si può affermare nel mondo, che quindi dobbiamo parlare anche di eccellenza e di talento. Complimenti, cosa ci suonereete? Suoneremo una mia composizione che si intitola La Banne, un brano che ho composto recentemente ispirandomi alle bande di paese siciliane. Tra l'altro, voglio dire, il legame col Gese è fondamentale perché il Gese è una forma d'arte che nasce dall'incontro di più culture, in particolare la cultura ebraica, afroamericana e quella siciliana. I siciliani hanno portato la tradizione bandistica e tra l'altro tratta il tema della vita e della morte perché nella prima parte si tratta di una marcia funebre e poi diventa un inno alla vita. Siamo in tema della serata. Allora, prego. Grazie. 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 Grazie.